Amici, Sanseverino anche dopo il terremoto le nostre aziende sono sopravvissute e addirittura servono per la rinascita del terremoto, ce ne parla il titolare signor Colombi, ecco voi lavorate adesso anche per il terremoto. Assolutamente sì, è una bella fetta del nostro lavoro per il terremoto purtroppo. Vabbè nessuno l'aveva prevista queste cose ma anche se qualche sospetto c'era di questo evento sismico che ha cambiato la vita, però diciamo che voi avete aziende che già operavano nel settore civile industriale e abitazioni. Sì sì, noi continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, quindi il nostro lavoro è tutto quello che riguarda la carpenteria metallica in genere, quindi tutto quello che è strutturale, strutture agricole, industriali, per civile di abitazione lo facciamo già prima e lo facciamo adesso, adesso magari anche per ristrutturazioni e quant'altro, per sostenere.